Grazie a tutti Il palleggio sulla sinistra Poi arriva Vitellaro Gualtieros in vantaggio Grandissimo gol da parte del numero 7 Al volo in diagonale dal lato sinistro Adesso Pina sulla destra Per Fanti Pallone adesso per Matta Che rientra centralmente Di nuovo Davide Pina Ci prova e va a sfiorare il palo di sinistra Adesso il corner battuto da Bellisai Pallone Sulla sinistra per Busonera E poi Matta rischia l'autogol Ancora Busonera Per Pugedo dalla sinistra Arrischia il gol del raddoppio Il Gualtieros Adesso Matta da fuori Palla sul palo destro Non c'è un attimo di pace Adesso Brugnera Pallone sulla sinistra Per Pitellaro Che entra nella digore Il diagonale Palla che bacia Clavorosamente il secondo palo Poi salva Caria Adesso Pugedo A cercare De Muro In qualche modo La difesa del new team Cerca di allontanare il pallone Pugedo poi lo recupera Per Maurizio De Muro Il raddoppio dei Gualtieros De Muro Da centrale di rigore Tiro angolato Alla sinistra Adesso Pinna Si gira Impegna Ernesto Contini Adesso Pugedo Sulla destra Per Francesco Arca Il diagonale Disinnescato In qualche modo Da Roberto Piras Adesso ci prova Magna da fuori Palla che sbatte Contro Il palo destro Attenzione adesso Affanti Pallone per Pinna Servito poi Con la maglia numero due Nicola Perra Che impegna a terra Ernesto Conti Adesso punizione Da limite Se ne occupa Davide Pinna Ancora Contini Mostruoso Alla sua destra Adesso Pugedo Centralmente Potrei mandare il tiro Lo effettua Piras Si salva in qualche modo Poi allontana E Caria Siamo nella ripresa Fanti Sulla corsia di destra Cerca spazio Serve Davide Pinna Il new team Torna In partita Dal primo minuto Del secondo tempo Ancora Pinna Se ne va Sulla corsa sinistra Il traversone Arca Salva tutto Adesso Vitellaro Al limite L'area di rigore Vede l'arrivo di Arca Sulla destra Francesco Arca Era di rigore Il gol del 3-1 Della squadra ospite Al quinto minuto Della ripresa Adesso Pinna Serve Mirko Mata Litigano col pallone I giocatori Del Gualtieros Allora ancora Davide Pinna In possesso di palla Sulla tre quarti Aspetta l'arrivo Di rinforzi Sulla sinistra C'è Angius Poi scambia Con Mata E poi Nicola Perrà Da due passi Il new team Torna ulteriormente In partita Clamoroso Nel frangente Lo sbadiglio Di Ernesto Conti Intanto attenzione Al new team Che continua ad attaccare Con Mirko Mata Il pallone per Pinna Che cerca di liberarsi Al tiro Lo fa Conclusione deviata Che termina in calcio Adesso Puget Il pallone Per Manna Che poi cerca Vitellaro Che dal lato destro Si dimora Il gol del poker Ancora Vitellaro Anticipato da Caria Arriva però Belisai Il traversone Piraz Smanaccia Adesso ancora Belisai Sulla corsa di destra Il passaggio E per il solito Vitellaro Ancora Belisai Dal lato sinistra In aria Colpisce un clamorosissimo E palo Ancora Vitellaro Scattenato Adesso sulla sinistra Pallone Per Roberto Manna Che si libera Roberto Manna Pallone nell'angolino Di sinistra Al quattordicesimo I Gualtieros Allungano forse In maniera decisiva Arca adesso Dalla corsa di destra Pallone per il solito Davide Vitellaro Che ci prova Roberto Piraz Blocca In due tempi Ancora Vitellaro Sempre lui Sulla corsa di destra Se ne va A Nicola De Fraia Si accentra Potrebbe provare il tiro Lo effettua Davide Vitellaro Il gol Del 5 a 2 Dei Gualtieros Partito ormai Conclusa Adesso ci può provare Anche Pugedou Dal limite La dà per De Muro Che dal lato destro Si divora Il sesto gol Equipin Su punizione Dal limite Pallone che si insacca Nell'angolo alto di destro Il gol di fatto Della bandiera Dei New Team Che perdono la vetta Proprio a favore Dei Gualtieros